un certificato di font bell vado su coinbase ti sorprese oggi ti ha sorpreso parlare prima è stato è stato profeta perché non sapeva neanche la mia operatività e coinbase perché infatti è un grafico veramente e chirurgico beltre che poi ha una forte relativa maggiore nei confronti di tutti gli altri titoli legati bene o male alle criptovalute c'è questa importante fase correttiva che si è inescata dai dagli importanti top che abbiamo visto durante le settimane passate l'area dei 277 280 dollari fase correttiva che è arrivata negli ultimi giorni a testare il super trend 213 dollari e in più abbiamo la chiusura del gap up lasciato aperto il 4 di marzo in area 206 virgola 40 che guarda caso ha chiuso il 17 di aprile ieri c'era una candela di una sorta di hammer che riporta i prezzi a contatto appunto con quei e con i livelli del super trend la nostra operatività qual è è di un ingresso in area 220 dollari con uno stop loss 198 e un target fenomenale ritornare sui top 275 dollari lo so che sei sconvolto però puoi dire qualcosa sta cercando di capire perché 220 perché apre forte apre forte quindi spero in perché l'apertura odierna al momento è 224 e 50 ieri ha chiesto 228 virgola 08 se poi possiamo anche cambiare l'ingresso e dicevo perché 220 che può comprarla a meno come cosa sostanzialmente ti metti sotto questi minimi vedi una figura di inversione in questo doppio minimo 1 e 2 e provi a cavalcare la forza grazie a tutti